Perché la parola responsabilità è stata reintrodotta già nella seconda metà del Novecento da Anzi Jonas, proprio in relazione al problema, diciamo, della sfida ecologica e della necessità di preoccuparsi delle generazioni future. E diciamo, lì il concetto di responsabilità emerge come un concetto molto legato al dovere, no? In prima istanza, cioè noi dobbiamo essere responsabili per il semplice fatto che siamo noi che abbiamo creato questa situazione sul piano, diciamo, ecologico, sociale, complessivo. È il nostro illimitato potere che ci ha portato a questo. E dunque è importante costruire un'etica del futuro che è, per l'appunto, un'etica della responsabilità. Ecco, io sono partita da qui con molta, diciamo, condivisione di questa prospettiva. Io credo che dobbiamo mettere la parola futuro e responsabilità verso il futuro proprio al centro. Ma la mia attenzione è poi successivamente o, diciamo, contemporaneamente andata alla parola cura. Perché credo che il concetto di responsabilità non esprima compiutamente quello che secondo me invece è importante. E cioè l'idea di una cura quotidiana, di una preoccupazione. Cura vuol dire preoccupazione e sollecitudine. E quindi vuol dire che, appunto, io sono in grado di riconoscere i pericoli che mi minacciano. E questo fa parte anche della parola responsabilità. Sono in grado di capire quali sono le grandi sfide epocali che il mondo sta vivendo. Quindi quella, all'inizio c'era anche quella nucleare che da qualche parte c'è ancora, per certi versi c'è ancora. C'è quella che proviene dall'altro, di cui abbiamo appena finito appunto di parlare. E quindi le grandi migrazioni e così via. E c'è per me in prima istanza la sfida ecologica perché è diventata assolutamente prioritaria. Allora, cosa fare? Essere responsabili, fermarsi al principio responsabilità, rischia di essere un principio un po' astratto, un po' appunto doveristico. Mentre se introduciamo la parola cura, che vuol dire preoccupazione e sollecitudine, vuol dire non soltanto riconoscere le sfide che abbiamo di fronte, non soltanto assumersi la responsabilità, farsi carico di queste sfide, ma vuol dire anche appunto essere solleciti, cioè agire, cioè passare all'impegno, alla pratica, perché la cura è un'etica, ma è un'etica essenzialmente pratica, contestuale, che tiene conto appunto di volta in volta del contesto in cui ci muoviamo, che tiene conto del tessuto anche delle relazioni, che tiene conto appunto dello svolgersi quotidiano. La cura è eminentemente quotidiana, se non è quotidiana non è cura, o perlomeno non è una buona cura, e dunque aggiunge l'idea di cura al principio di responsabilità questo aspetto dell'impegno e della pratica. In secondo luogo aggiunge un elemento a cui io tengo molto, a cui credo sia assolutamente importante, che è l'aspetto emotivo. Cura rimanda anche appunto ad empatia, rimanda anche diciamo alla capacità di vedere l'altro, sentire l'altro, partecipare al vissuto dell'altro, partecipare in primo luogo emotivamente al tessuto dell'altro, anche se questo altro sono le generazioni future. Devo poi aggiungere che, come dire, finora noi pensavamo che la sfida ecologica riguardasse fondamentalmente le generazioni future e ci stiamo rendendo conto che il tempo va avanti in modo molto accelerato, che noi vediamo sempre di più i sintomi di questa crisi e di questa sfida e che quindi purtroppo ad essere interessate ormai sono le generazioni più prossime, quindi anche quelle dei nostri, se non dei nostri figli, sicuramente dei nostri nipoti che vedranno comunque un mondo cambiato e un mondo cambiato in peggio. Allora cura vuol dire preoccuparsi oggi, nel presente, quotidianamente, in tutti i modi possibili, del futuro, diciamo, delle generazioni, ma anche di quello che io chiamo mondo vivente. Preferisco parlare di mondo vivente, non di umanità, perché il problema oggi è la sopravvivenza non solo dell'umanità, ma anche del pianeta, della natura, degli animali, cioè di quello che appunto è il mondo vivente, quindi diventa un tema di cura della vita, cura della vita nel futuro. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.